Ciao a tutti ragazzi sono Luke, sono ancora io e ancora una volta incazzato Perché ragazzi? Vi spiego subito, chi non vuole guardare il video è inutile che lo commenta dicendo Ma sempre questi video non lo guardare neanche, te lo dico già in partenza, non voglio commenti di questo genere Ragazzi vi dico cosa è successo, allora vi faccio vedere un attimo questa pagina, questa è la pagina dei miei video Questo è l'ultimo mio video caricato, 28 non mi piace, ce ne sono altri a 20, a 22, a 23, in quasi tutti i video ragazzi Sta partendo dal fondo per andare verso l'alto, cominciando dall'ultimo no? Però cosa volevo dirvi? A me dei non mi piace e non me ne fotte un cazzo, ve lo dico proprio così sinceramente Oggi sono volgare e anzi un'altra cosa, se youtube vuole censurarmi il video, cancellarlo, fare quel cazzo che vuole non mi interessa niente Perché prima di guardare il mio video o video di altra gente dove si incazza guardassi un po' a chi cazzo di minchia si iscrive a sto youtube di merda Perché sono tutti bimbi minchia, tutti quanti bimbi minchia che fanno queste cose E ripeto, non mi è fatto un cazzo a me dei non mi piace Però ve lo volevo farvi vedere, giusto per farvi vedere questi 28 che vabbè, per l'amor di dio Magari qualcuno l'ha messo veramente perché non piace il mio video Però di questi 28 non mi piace Voi pensate questa gente quanti canali si è creato per mettere tutti questi non mi piace Ma la cosa più importante, più seria e che più, non è che mi fa incazzare Ma che più mi dà fastidio È che si è creato questa persona o queste persone, magari sono più di uno Tutti questi canali mandandomi non so quanti tipi di messaggi Uno ogni 10 minuti, eh ragazzi, uno ogni 10 minuti Con scritto, ciao Luke sono un tuo fan, chiudi il canale e un consiglio Bello, bel consiglio Vado a vedere il canale di questo qua E il canale è creato 5 minuti prima del messaggio Mi arriva un altro messaggio con scritto Luke sono un tuo fan, il mio consiglio è più grande Hai una famiglia, pensa alla tua famiglia Stai con tuo figlio invece di giocare a 28 anni Sa cazzo di minchia di finestra a minecraft Chiudi il canale e penso a loro Altro messaggio Ma me ne sono arrivati circa 200 oggi ragazzi di messaggi così Non sto scherzando, eh Più tutti i commenti ai video Che io ho subito cancellato Ma tutti i canali creati ogni 5-10 minuti, eh Vi dico solo questo Per cui mi rivolgo a te, grandissima testa di cazzo Non pensare alla mia famiglia L'ho già detto in un altro video, te lo ripeto Non cagare più e non mettere in mezzo più la mia famiglia Pezzo di merda Non parlare della mia famiglia o di mio figlio A te non te ne fotto un cazzo che io a 28 anni gioco a minecraft Perché sul, vai sul sito della Mojang Non c'è scritto da nessuna parte Che bisogna avere un'età per giocare a minecraft Io gioco a quel cazzo che voglio E sono cazzi miei di quello che faccio su youtube Se faccio video anche se ho dei figli Ma tu che cazzo ne sai che io mentre sto facendo sto video incazzato Mio figlio è in braccio Tu che cazzo ne sai No, perché io sono una persona con la testa Mio figlio è in camera, tranquillamente Così non ascolta neanche queste parole E sono bello tranquillo in stanza da solo A insultarti grandissima testa di cazzo Invece di mandarmi tutti sti cazzo di messaggi Mettere i non mi piaci Dicendomi di chiudermi il canale Vuoi farmi arrendere addirittura Non ti voglio assillare ma ti do dei consigli D'amico vero Chiudi il canale di qua di là Invece di fare così Sul mio canale c'è l'account di Skype Chiamami Dimmi la voce come sto facendo adesso io con te Pezzo di merda Dimmi la voce Vienimi a trovare di persona Ma non dietro un cazzo di monitor come sempre Come ogni volta E come tutti i bimbi di minchia di merda come te Ok ragazzi Da oggi ce l'ho con i bimbi minchia Sono contro i bimbi minchia E odio i bimbi minchia Tu sei più bimbo minchia dei bimbi minchia Perché sei una merda umana Sei una merda Sei uno schifo Sei meno di zero Perché almeno lo zero Ragazzi lo zero è rotondo È un simbolo Tu non c'hai neanche un simbolo Non hai neanche una forma Sei una merda spiaccicata a terra Cioè non Me ne darebbero tantissime altre parole come descriverti Ma non le dico neanche perché sono su YouTube Mi guardano bambini Mi guardano genitori Mi guardano donne Mi guarda gente che mi stima veramente Oltre ai pezzi di merda come te Sei invidioso Sei geloso Hai messo magari tutti questi mi piaci Anche Beh 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 Ragazzi ripeto i mi piaci E farvi vedere giusto il simbolo E di quanti canali si è creato sto fottuto Sto Sto coniglio Non so come cavolo chiamarlo All'ultimo video poi Quello lì della millenire Quello lì dove c'è la mod degli animali Perché? Perché ho trovato il cavallo volante Cioè sei invidioso Lo vuoi anche tu? Hai giocato a Minecraft E non hai trovato il cavallo volante? Cazzo ma mi dispiace oh Ma cerca bene nel mondo C'è anche la La modalità creativi Puoi volare Puoi cercare nel mondo Magari lo trovi un cavallo volante Coglione O magari sei invidioso Perché ho tutti questi iscritti? O magari sei invidioso Perché ho tutti questi iscritti? Sì è vero Gli ho avuti anche grazie al capo bastone Ma qual è il problema? Però Gli ho avuti è vero Grazie al capo bastone Ma i fan del capo bastone Che si sono iscritti al mio canale Continuano a seguirmi Continuano a stimarmi E continuano a mandarmi messaggi Che è meglio che non ti faccio leggere Perché tu non puoi neanche capire Che messaggi mi arrivano Ok? Perché a volte leggendo i messaggi Dei fan del capo bastone O anche dei miei fan O di altre persone Mi viene la pelle d'oca Mi vengono anche le lacrime Sì a 28 anni Mi vengono le lacrime Pezzo di merda O magari sei invidioso Perché Perché ho tante visualizzazioni di video O magari sei invidioso Per come sto facendo successo In pochi mesi O magari sei invidioso Perché carico 3 video al giorno Guarda dai Ti voglio aiutare Guarda ti voglio fare E' contento Ragazzi lo dico a tutti quanti Ehm Da oggi non carico più 3 video al giorno Ve lo dico sinceramente Facciamo un favore A questo A questo poveretto Perché è solamente un poveretto Facciamoli un favore Ragazzi Luke non caricherà più 3 video al giorno Ma Cioè non so come dirvelo Ragazzi mi dispiace anche a me Sono sincero Mi dispiace anche a me Ma ve ne caricherò 6 di video al giorno Pezzo di merda Te ne carico 6 Adesso Vatti a creare altri 70 canali E vammeli a commentare tutti Vai 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 bello Vai Vatti a creare altri 200 canali Vai a mettere i non mi piace Insultami Tu più mi insulti E più io andrò avanti Hai capito? Io non chiudo il canale Per i pezzi di merda come te Io non mi arrendo Per i coglioni come te Io vado avanti E grazie ai tuoi non mi piace Anzi Ti dico grazie ai tuoi non mi piace Perché? Perché mi hai regalato 28 Visualizzazioni in più al video Ma ti rendi conto? Più tu mi insulti Più tu vai sui miei canali A commentarli A mettere i non mi piace E insultarmi Tu più mi regali visualizzazione Ti ringrazio Fottuto Ti ringrazio Coglione Ti ringrazio Ti ringrazio per tutto quello che stai facendo per me Tu pensi Di essere contento che mi hai fatto incazzare Oh Luke ha fatto un video incazzatura un'altra volta Sì Sei contento? Ma sappi che io sto ridendo Pezzo di merda Sto ridendo E sono anche contento Perché mi regali visualizzazioni Più mi insulti E più mi incazzo E più vado avanti Sta finestra mi fa incazzare Ma io la chiudo Si riapre e la richiudo Si riapre Io la richiudo Tu mi insulti Io vado avanti Sei invidioso dei miei tre video al giorno Te ne faccio sei Sei invidioso dei miei iscritti Spero che raddoppiano i miei iscritti Per farti morire di invidia E a questo punto Caro mio bel Non ti dico neanche ragazzo Caro mio bel bimbo minchia Ti dico anche Guarda Te lo dico proprio sinceramente Spero Veramente spero Di arrivare alla partnership Spero Lo spero con tutto il cuore Ma non solo perché ragazzi Lasciate stare i contest Lasciate stare tutto Anche io ho bisogno di soldi Come tutti voi Anche io ho delle cose da fare Per cui Vorrei veramente arrivare alla partnership Oltre ai soldi Per farti venire ancora più invidia Grandissimo bimbo minchia di merda Ti voglio far crepare da invidia Perché noi andiamo avanti Cioè almeno io vado avanti I 1701 iscritti Mi seguono comunque Avranno i miei video E tu sei di là a guardare questo video Magari a dirti No potevo non farlo Oppure guarda come si sta incazzando Ma sappi che io non sono incazzato Sappi Sappi che io mi sto divertendo Sappi che io vado avanti E sappi che devo ringraziare veramente Il capo bastone Lo ringrazio veramente Ragazzi non voglio leccare il culo a nessuno Non voglio ricevere altri iscritti Grazie al capo bastone Ma lo ringrazio con il cuore Ringrazio tutti quelli Che c'erano sul forum con me Dieci minuti fa Per prima di questo video Dale77 Tik Tok Niki Alex Mister The Kick Chaos Guglifico E vabbè gli altri ragazzi Leggeteli voi E tanti altri che adesso Si sono disconnessi Li ringrazio veramente tutti ragazzi Ma tutti 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 Ringrazio tutti i miei iscritti E vi dico ragazzi Non vi lasciatevi ingannare dal titolo Perché Luke va Come ho detto in un altro video Avanti Più peggio di prima Vi caricherò di video ragazzi Mi iscriverò a tutti i vostri canali Andrò a mettere i mi piace In tutti i vostri video Andrò A commentare tutti i vostri video Ma non per ricevere visualizzazioni Ho iscritti io ragazzi No Perché a me Che mi vengono a dire Ho i 1700 iscritti Con 200 video Si Ne faccio altri 1000 di video in un mese Ok Vuoi vedere? Non mi credi Ti faccio 1000 video in un mese 1000 video in un mese Mi viene a dire Tu hai tante iscrizioni E perché sono iscritto di cambi No Mai fatto iscritto di cambi Mai Se io mi iscrivo agli altri canali Perché la gente mi manda messaggi No Mi manda messaggi con scritto Luke Guardo i tuoi video Di qua e di là Infatti è vero Perché poi vedo che commentano sempre Di qua e di là Puoi farti un giro sul mio canale Ma io ci vado volentieri Qual è il problema? Mi vado a iscrivere Qual è il problema? E che cazzo te ne fotte a te? Quante iscrizioni ho io? Io posso avere anche 1000 iscritti 8000 iscrizioni Io posso fare quello che voglio su youtube Il canale è mio Non tuo Pezzo di merda Bene ragazzi Direi che è tutto Spero sia stato chiaro Scusate per la volgarità di questo video Ragazzi Vi chiedo perdono Non mi avete mai visto così volgare Ma è solo per farglielo capire A questi bimbi minchia Perché se li dici Scusate ragazzini Non fate queste cose Non lo capiscono Bisogna insultarli Sti pezzi di merda Perché è solo dietro un monitor Coniglio Per cui ragazzi Guarda Guardate Per farti capire Che non sono incazzato Te lo dico ancora meglio Per l'ultima volta Poi chiudo il video Te lo dico così Ma vai a cagare Testa di cazzo Da Luke È tutto Ciao a tutti